Ciao Cipollini! Allora, staglio! Allora, prima di tutto pesiamo, d'accordo? Non so più o meno, cerco di dividerlo uguale, d'accordo? Vediamo un po'. Questo è 662, questo è... Scusate, è venuto una brutta roba al telefono! Allora, e questo è 7,30, quindi, ecco, tiriamo via un ciccinini di qui. Ok. Ok, ok, quindi siamo intorno a 6,90 questo, e questo, perfetto, 6,90. Allora, niente, molto semplice. Io cerco di darvi una forma rettangolare, insomma, l'andilina, si vede? Aspettate che abbasso un po' di più, faccio un altro danno. Ok, ci siamo? Allora, piego... E glielo piego sopra, ok? Lo metto di profilo, chiudo a metà, non ho niente sulle mani, e richiudo a metà, ok? E lo lascio qui, un mezzo secondo. Prendo l'altro panetto, faccio la stessa identica cosa, piego a metà, piego a metà, 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 e lascio così. Ok? Adesso, riprendo in mano il panetto di prima, richiudo a metà, richiudo dall'altra parte, ok? Poi, io sigillo così, faccio la famosa pochettina, avete presente quella che dico sempre? Ok? Eccola qua, la bella pochettina. Quando è fatta, prendo e la metto via. Oppure, oppure, una volta che ho fatto la pochettina, posso richiudere ancora, e cercare di, allora,